Io credo che a Mario le gustava che Raquel fuera famosa, però io credo che lui sentia un po' una certa insegurità per essere al livello. Mario questa cosa non l'ha accolta male, anzi, gli piaceva vedersi sulle riviste. Quando veniva a Palermo mi portava le riviste che sono le letture. Poi il matrimonio è stato pubblicato in diverse riviste spagnole. Le punti di inflexione di una storia sempre funzionano molto bene. Se si casano, ovviamente la cosa funziona bene e le riviste vogliono queste fotografie, vogliono materiale, vogliono entrevistare, vogliono declarazioni. È stato un bel matrimonio. Infatti, io ricordo che lei ha vinto il premio del matrimonio più bello dell'anno. Il problema è che è stato bello, ma è stato un buon matrimonio.